Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning In questo nuovo video finalmente andremo a montare il kit di Xenon per tutti da 17.000 lumen, 6.000 kelvin per la smart 453 E' un kit dedicato per la smart, 3 anni di garanzia, luce veramente formidabile E dal momento che trattasi di una smart sono H4, quindi sia un abbagliante che abbagliante Bando alle ciance, io direi intro e cominciamo subito all'installazione Per quanto riguarda la rimozione del cofano abbiamo queste due prese che vanno tirate verso di noi Verso la parte centrale fino a fine corsa, questo si sgancerà tutto E lo lasceremo calare in basso, lo adagiamo piano piano sul paraurti E lo lasciamo qui senza smontarlo perché non ce n'è bisogno Ci troviamo quindi all'interno del vano anteriore della smart Questo è il nostro faro, qui sopra abbiamo l'attacco che penso che sia per la freccia anteriore Sotto in basso invece c'è quello per le luci di posizione Poi qui abbiamo un tappo, questo qui che va tolto Purtroppo sarà scomodissimo farvi vedere tutto Ma cercherò di mostrarvi il più possibile Cominciamo quindi con il primo step ovvero la rimozione del connettore della lampadina È molto semplice, è a 3, come tutti i connettori H4 Questo basta sfilarlo e si toglie, non è nemmeno troppo duro È abbastanza facile Qui abbiamo la molletta che regge la lampadina La molletta è incastro dentro una sede Va spinta verso l'esterno e questa uscirà dalla sede e si potrà liberare All'inizio magari è un po' complicato capire il meccanismo Però niente di così difficile La lampadina si sfila in maniera molto facile Niente di così complicato Questo video può servirvi anche per la semplice sostituzione della lampadina alogena con un'altra alogena Questa è la lampadina come si presenta quella a led Abbiamo il connettore H4 in nero con i gradi L'ampollina che vedete sulla lampadina serve per fissare, per tenere salda la lampada al connettore H4 Scusatemi Qui l'ho già fissato per problemi di visibilità Comunque è abbastanza semplice Poi siamo pronti per inserire la lampadina con il filo verso il basso per non sbagliarvi I led andranno perpendicolari al terreno Ora si vedrà bene e andrà ruotata fino al click Che sentirete tra poco Ok questo era il click In seconda battuta va forato il tappo per far fuoriuscire il connettore e i cavi della lampadina In quanto non avevo un tappo aftermarket adatto quindi mi sono arraggiato in questa maniera momentanamente Però va bene così Ok ragazzi siamo arrivati alla fine del video Fissare la centralina è abbastanza semplice Ho mandato in fondo tutti i fili Ho fissato la centralina sulla lamiera della macchina Così da favorire il più possibile la dissipazione del calore Oramai è un mese Più di un mese anzi Che ho montato il kit sulla macchina E posso assicurarvi Che non ci sono problemi di condensa Umidità, sporcizia nel faro Quindi per il momento lascerò il tappo forato Anche perché non ho trovato Alcuna soluzione a questo per il momento Se avete idee Scrivetemelo nei commenti Che sono sempre pronto a accettare i vostri consigli E magari applicarli Un'altra cosa che volevo dirvi è che In seconda battuta arriverà il Carvlog con la Smart notturna Per la prova di tutte le lampadine Comprese queste Soprattutto queste Quindi diciamo che il video può concludersi qui Iscrivetevi a Instagram Seguite Xenon per tutti E ovviamente scrivete a me Per ricevere lo sconto Dedicato su qualsiasi kit Xenon per tutti Per questo video è tutto ragazzi Mi saluta Ciao a tutti Ciao a tutti